cari amici di mille un'avventura continuiamo la nostra serie sul web assembly e come vedete abbiamo cambiato il titolo corso di linguaggio c e web assembly siamo arrivati alla quarta puntata sottotitolo visualizziamo i frames per second e adesso vediamo che cosa vuol dire alla fine vedremo proprio un semplice esempio di cosa significa perché ho cambiato il titolo perché in effetti come ci siamo accorti nei primi video nei tre tutorial che abbiamo già presentato il web assembly è solo un formato binario per una macchina virtuale basata sullo stack come trovate scritto qui sopra dietro di me ed è una diciamo è un formato che consente di creare dei programmi che poi in qualsiasi browser su qualsiasi sistema operativo possono essere tradotti nel vero linguaggio macchina nel vero assembly del processore su cui sta girando quel browser e quel sistema operativo perciò è un formato particolare abbastanza complesso e per ottenere dei programmi che girino su questo tipo di macchina virtuale è necessario utilizzare altri linguaggi di più alto livello non sarebbe impossibile programmare direttamente in web assembly esistono degli strumenti che consentono di farlo però sicuramente è molto complicato e non si andrebbe molto lontano creando delle applicazioni complicate complesse noi invece vogliamo creare qualche programma che giri nei nostri browser e vogliamo che sia un programma che ci dia soddisfazione che quindi vada oltre delle semplicissime demo quindi useremo un linguaggio di alto livello e dato che ci stiamo apposendo per il momento su mscripten questo ambiente di sviluppo che crea appunto programmi in web assembly per il web si appoggia sul linguaggio c e linguaggio c++ come si dovrebbe dire noi partiamo invece proprio dalla base per il momento non ci occupiamo del c++ magari più avanti potremo cambiare il titolo del nostro dei nostri tutorial specificando che ci occuperemo di questo linguaggio ad oggetti che è il c++ però per il momento rimaniamo ancorati alle basi il linguaggio c è un linguaggio che risale a 50 anni fa infatti il mitico libro di kernigan e richie risale al 1972 73 sono quelli gli anni quindi 50 anni fa è un linguaggio che ha poi portato a una sintassi che altri linguaggi hanno ripreso il linguaggio java il linguaggio javascript e così c sharp tutti hanno ripreso la sintassi di base del linguaggio c e l'hanno poi ampliata come ha fatto lo stesso c++ aggiungendo gli oggetti aggiungendo altri costrutti che hanno ripreso il linguaggio più potente e hanno eliminato le sue problematiche che sono legate soprattutto all'uso della memoria e all'uso dei puntatori ma noi in questo corso ci occuperemo di linguaggio c e di web assembly quindi rimarremo proprio ancora ancorati agli anni 50 no a 50 anni fa cioè agli anni 70 non è vero nel senso che sono state ottenute varie revisioni di questo linguaggio c siamo arrivati a giugno del 2018 alla versione c17 e forse anche qualcun'altra che qui non viene citata è stata ancora aggiornata noi useremo un linguaggio c più o meno standard che risale ancora al millennio scorso mi pare che emscripten si basi su c99 o qualcosa del genere però vediamo di volta in volta scopriremo se i costrutti che useremo sono accettati dal compilatore oppure no però in questo video che cosa facciamo vogliamo visualizzare il frame rate del nostro schermo vi ricordate che nel video precedente senza spiegarlo troppo abbiamo visto una pallina che rimbalzava urtando i bordi dello schermo ecco in questo video non ci sarà la pallina che rimbalza magari la aggiungeremo più avanti per non complicare troppo il codice ma vogliamo visualizzare quanti frame al secondo compaiono sul nostro schermo su questo schermo che sto usando io sono 144 144 ridisegni dello schermo al secondo su altri schermi possono essere 60 su quelli più moderni da giocatore professionista di videogiochi si può arrivare a 240 se non addirittura 360 frame per secondo e quello che faremo è proprio visualizzare quanti frame il nostro schermo riesce a riprodurre ecco per il momento vedete qui la nostra directory che è la directory in cui comparirà la nostra pagina html che creerà poi il programma vero e proprio ecco vedete che compaiono un file batch quello che ci serve per compilare tra poco vediamo com'è fatto poi c'è questo sdl font cache che è una utility scritta in linguaggio c per stampare scritte sullo schermo questo template.html è un file una pagina html di base che verrà utilizzata per creare quella definitiva e in wasm04.c c'è il programma che tra poco vediamo e come dicevo noi stiamo usando sdl una libreria che consente di utilizzare della grafica e lo fa in modo diciamo multi piattaforma nel senso che un programma scritto in c e compilato per una determinata piattaforma può essere sviluppato senza troppe differenze da linux, windows, macOS e così via grazie a sdl si usa una serie di api di funzioni tutte uguali e quindi compilando per la specifica piattaforma noi useremo sempre lo stesso codice senza troppi problemi e anche il web assembly grazie a mscripten può essere diciamo può disegnare della grafica nei nostri browser proprio sfruttando le librerie sdl per web assembly ma andiamo a vedere i nostri programmi ecco innanzitutto diamo un'occhiata a questa a questa serie di cose incomprensibili questo è un file batch di windows ci serve per compilare il nostro programma infatti vedete che qui si usa emcc emcc è il compilatore di mscripten che traduce il programma scritto in linguaggio c lo traduce in web assembly e anche in tutta la pagina che serve per visualizzare questo programma ci sono tutta una serie di opzioni ecco semplicemente queste opzioni che poi vi troverete nel file da scaricare qui sotto in descrizione tutta questa serie di opzioni diciamo poi le vedremo magari nel dettaglio per il momento si nota che ha qualche cosa a che fare con le librerie sdl che utilizziamo nella versione 2 di qualche anno fa ma la più recente disponibile tutto il resto diciamo non è poi così utile al momento andare a vedere che cosa significa quindi questo è il file batch che compilerà il nostro programma e andiamo subito a vedere come funziona andiamolo subito a compilare ecco qui c'è la solita vediamo se riesco a ingrandire ecco qui c'è la solita nostra linea di comando eccola qui e dato che ci troviamo già nella directory giusta scrivendo semplicemente c viene eseguito il programma batch che vedete qui in sottofondo ed ecco che ha già fatto tutto quello che doveva fare ha compilato il nostro programmino e ce lo andiamo adesso subito a vedere sempre vi ricordate qui c'era la nostra directory mostrata nel browser perché come ho mostrato nei video precedenti abbiamo impostato un server html sulla nostra macchina sul nostro computer per poter poi visualizzare bene queste pagine html ovviamente se avete delle domande su questo sui video precedenti qui sotto in descrizione potete fare tutte le domande che volete vedete che qui sembra che non sia successo nulla ma se rinfreschiamo la pagina ecco qui che trovate tutta una serie di file oltre a quelli che c'erano c'è anche wasma04.html che è la pagina che verrà visualizzata in internet con il nostro programma e poi c'è questo wasma04.js che è il file javascript sempre generato da mscripten che ha creato il programma e poi c'è addirittura qui il file wasm che è quello scritto in webassembly in pratica il nostro codice in linguaggio C che vedete qua è stato trasformato grazie al compilatore di mscripten in una pagina html in un programma javascript che fa da interfaccia con il webassembly che si trova invece in quest'altro file e se ora andiamo a cliccare su wasma04.html guardate che succede si apre questa pagina con questo sfondo verde e c'è questa scritta 144 fps che ci dice secondo dopo secondo quanti frame il nostro browser ha ridisegnato tutte le volte e se ci fosse qui una pallina che rimbalza come la scorsa volta la vedremo muoversi fluidamente ma in realtà è una serie di fotogrammi che ogni secondo vengono mostrati 144 volte quindi è tutto qui il programma di questa volta però andiamo a vedere come è realizzato così cominciamo a imparare un po' di linguaggio C e quindi torniamo subito al nostro editor potete usare qualsiasi editor di testo per realizzare questi programmi e quindi potrete andare a vedere i programmi che trovate qui sotto in descrizione semplicemente aprendoli con un normale editor di testo ecco C.bat l'abbiamo già visto questo serve solo per avere tutto quello che serve per compilare predisposto senza riscriverlo tutte le volte quindi lo togliamo e andiamo a vedere brevemente anche come è fatto template.html se avete visto qualche video precedente di questa serie avrete notato che emscripten produce delle pagine abbastanza complicate con una parte grafica una parte di testo si trova emscripten scritto in alto però grazie a questo file che noi abbiamo predisposto possiamo limitare tutta la nostra la nostra pagina html a pochi elementi che non confondono più di tanto gli elementi fondamentali sono praticamente due creare un rettangolo canvas che in html è semplicemente un rettangolo che fornisce dei pixel dove ci si può poi disegnare e poi questa parte qui tra parentesi graffe vedete queste triple parentesi graffe con scritto script in cui poi emscripten va a inserire il codice javascript necessario quindi questo è solo un canvas un template diciamo che viene poi utilizzato e se uno volesse una pagina html con qualche orpello in più potrebbe proprio metterlo qui non ha a che fare però con linguaggio c e con web assembly il tutto poi andrà a scrivere in un rettangolo di testo ecco questa questa parte qui di stile che ho aggiunto serve semplicemente per far visualizzare il canvas a pieno schermo cioè quello che volevo fare torno un attimo qui ecco torniamo a vedere il nostro wasm ecco vedete che si vede una pagina a pieno schermo tutta verde c'è solo il menu del browser qui sopra con le varie pagine che in parte vi ho già mostrato e qui sopra quindi vedete che il canvas in questo momento occupa tutto lo schermo non proprio tutto perché sopra c'è la barra del browser ma se noi premessimo il pulsantino apposito che è questo qui vedete che adesso il nostro browser è a schermo intero e visto che sto usando edge per uscire da questo schermo intero basta premere f11 quello che volevo ottenere è un canvas che occupa tutto lo schermo come in un normale gioco a pieno schermo ne possiamo uscire quando vogliamo e la cosa bella dello stile che ho impostato nell'html che avete visto è che se io riduco la pagina del browser vedete che il 143 144 fps rimane lì però la pagina grafica è diventata più piccola se ci fosse qui una pallina che rimbalza ma lo faremo nel prossimo video perché questo già sta diventando troppo lungo così riproveremo a programmare delle palline che rimbalzano tanto per capire un po' meglio come funziona il C poi come suggeriva qualche iscritto metteremo qui sotto una paletta che si può muovere con la tastiera o col mouse e quindi giocheremo un po' con il linguaggio C e il web assembly per costruire un minigioco e capire come funziona questo linguaggio però vedete che noi potremmo ridurre il nostro schermo e la pallina tenendo conto delle dimensioni dello schermo andrebbe a rimbalzare ogni volta sullo schermo che si ritrova più o meno piccolo che si ritrova comunque a parte questi aspetti che riguardano l'html quindi anche questo lo chiudiamo perché useremo sempre questo formato e non ce ne preoccuperemo più di tanto in futuro a meno che qualcuno non mi faccia domande di come funziona questa cosa ecco andiamo a vedere adesso la parte importante di questo programma come mostrare con il linguaggio C e con sdl queste librerie di funzioni che stiamo usando per mostrare la grafica come è possibile mostrare quanti frame al secondo stanno passando davanti ai nostri occhi sul nostro schermo e come vedete qualcuno mi ha detto incredibilmente che questi programmi risultavano talmente complicati io mi sono stupito perché cioè il C più semplice di così non si può fare con nessun linguaggio a meno che non sia un linguaggio predisposto proprio per fare grafica sullo schermo e quindi esistono in effetti dei dialetti di java dei dialetti di javascript che hanno proprio delle funzioni apposite mi viene in mente per esempio P5 che qualche scritto ha citato nel in qualche commento come linguaggio adatto per fare grafica semplificata però in realtà fare grafica normalmente è complicatissimo partendo da linguaggi di questo genere non predisposti apposta per la grafica ma con librerie adatte a qualsiasi scopo quindi diciamo più di cioè un programmino meno di 71 righe per far rimbalzare una pallina o mostrare il frame rate con le basi è proprio il minimo insomma però in C non ci si può magari usando magari se usiamo una libreria più approfondita che si occupa proprio di grafica magari bastano due funzioni ma qui con l'SDL è abbastanza diciamo così a multipurpose che ha molti scopi e quindi insomma qualche cosa bisogna scriverla e allora che cosa abbiamo fatto qui sopra beh qui sopra vedete ci sono tutte le i vari file che contengono le definizioni delle funzioni che bisogna importare sicuramente bisogna importare le librerie SDL bisogna importare Emscripten e quindi queste cose sono di base però diciamo che questi include vengono fatti diciamo sempre li metteremo sempre all'inizio dei nostri programmi che seguiranno appunto questi tutorial quindi niente di strano servono per avere certe funzioni che poi useremo sotto già a disposizione caricate all'inizio se non li mettessimo questi include certe funzioni non potremmo richiamarle perché il compilatore non sa dove andarle a prendere invece questi include ci dicono esattamente come sono fatte e quindi ci aiutano poi a compilare poi vedete qui ne abbiamo già parlato SDL ha bisogno di sapere qual è la finestra dove disegnare e di avere un renderer che è proprio la struttura che va a disegnare su questa finestra poi vedete in queste due variabili la larghezza e l'altezza di che cosa? semplicemente dello schermo andremo a memorizzare in queste due variabili la larghezza e l'altezza dello schermo definiamo queste due variabili double cioè un numero in virgola mobile in doppia precisione però lasciamo perdere anche questo e andiamo a vedere come contare i frame sullo schermo qui c'è un'altra struttura importante ci serve per SDL per stampare sullo schermo delle scritte che sono poi quel 144 fps che avete visto prima qui ci sono altre variabili lo vediamo poi a che servono e ecco qui la parte importante in pratica vedete che c'è una funzione che si chiama render cos'è questa funzione che si chiama render? una funzione è un pezzo di codice una sequenza di istruzioni che vengono eseguite se noi richiamiamo quella determinata funzione ecco in questa funzione che cosa si fa? ecco vedete che c'è questa variabile fps counter che è seguita da 2 più ecco questi 2 più in linguaggio C sono molto caratteristici all'epoca negli anni 70 si tendeva magari a scrivere poco a non scrivere più di tanto perché i file diventavano lunghi c'era poca memoria però scrivere fps counter oppure scrivere fps counter uguale fps counter più 1 è la stessa cosa cosa vuol dire? vuol dire semplicemente che noi stiamo prendendo il contenuto di una variabile e cosa c'era in fps counter vedete qui che abbiamo definito fps counter qui in questa riga come una variabile intera cosa vuol dire intera che può essere 012 oppure meno 1 meno 2 fino a un certo limite un qualsiasi numero intero può essere memorizzato in questa variabile che abbiamo chiamato fps counter all'inizio abbiamo detto che questa variabile è uguale a 0 allora in questa riga dove c'è scritto fps counter più più che cosa facciamo? prendiamo il valore che c'era nella variabile gli sommiamo 1 quindi dato che c'era 0 sommandogli 1 otteniamo 1 e questo numero che abbiamo ottenuto lo andiamo a rimemorizzare nella stessa variabile e fps counter più più fa proprio questa cosa qui molto sinteticamente prende ciò che c'era nella variabile lo aumenta di una unità lo rimemorizza il valore ottenuto nella variabile stessa scritto in modo molto compatto e questo è uno dei costrutti caratteristici del c usare questi operatori in questo modo particolare per evitare di scrivere tutta questa roba qui ovviamente che sarebbe la stessa cosa vedete poi che dal punto di vista matematico non sarebbe corretto dire che fps counter è uguale a se stesso più uno nessun numero è uguale a se stesso più uno e quindi sarebbe una uguaglianza falsa ma l'uguale scritto in questo modo in quasi tutti i linguaggi di programmazione ha questo significato assegnare un valore a una variabile poi andiamo avanti vedete che c'è una variabile un'altra variabile che si chiama tix questa variabile è definita come un intero a 32 bit senza segno è un costrutto questo del c moderno diciamo nel c antico non c'era che dice semplicemente che in tix ci possiamo mettere tutti i numeri da 0 a 1 2 3 così via fino a un certo limite fino a 32 bit di precisione chi ha seguito il corso di assembly sul 6510 del commodore 64 sa di cosa stiamo parlando e quindi vuol dire che dentro a tix posso memorizzare dei numeri interi positivi quindi dei numeri naturali cosa sono e che cosa ci memorizzo ci memorizzo s di l tix parentesi chi usa parentesi aperta cos'è questo sdl tix è una funzione questa funzione è una funzione della libreria sdl e che cosa fa questa funzione vedete che è spiegata nel wiki della libreria sdl semplicemente prende il numero di millisecondi che sono trascorsi sin da quando il programma è partito praticamente possiamo dire sin da quando il programma è partito per esempio se io andassi a usare questa funzione dopo un secondo che il programma è iniziato il valore che restituisce questa funzione è 1000 dopo 10 secondi restituisce 10.000 perché restituisce il numero di millisecondi trascorsi da quando il programma è iniziato e quindi in tix avremo a un certo punto quando viene richiamata la funzione render avremo quanti millisecondi sono passati da quando il programma è partito e notate che in quest'altra funzione che richiamiamo all'inizio la funzione init che sta per inizializzazione sono tutte abbreviazioni un po' così potete benissimo scrivere in italiano se vi piace in quest'altra variabile che si chiama last tix abbiamo di nuovo memorizzato quanti millisecondi sono passati quindi in last tix ci saranno i millisecondi trascorsi da quando è stata richiamata la funzione init quindi all'inizio di quando è partito il programma invece in quest'altra variabile quanti sono trascorsi quando è stata chiamata la funzione render e la funzione render viene richiamata ogni volta che lo schermo viene ridisegnato quindi ad ogni frame quindi questo tix non conterrà sempre lo stesso valore ma quanti mille secondi sono passati ed ecco che a questo punto che cosa facciamo andiamo a controllare con l'istruzione if è un'altra istruzione del linguaggio c che va a controllare una condizione qual è la condizione che va a controllare quella che trovate qui tra parentesi verifichiamo se una certa affermazione è vera o se è falsa se l'affermazione è vera viene eseguita la parte di codice che trovate tra queste parentesi graffe vedete che c'è una parentesi graffa aperta qui in alto e una chiusa qui in basso se la condizione è vera viene eseguito quel codice che c'è lì in mezzo se la condizione risulta invece falsa quel codice lì in mezzo viene completamente ignorato e il programma continua più sotto ora che cosa va a controllare questo if che in inglese vuol dire se va a controllare se i millisecondi che sono passati da quando è stato iniziato il programma sono come numero maggiori o uguali di che cosa dai millisecondi che erano stati memorizzati prima più un valore che abbiamo chiamato max timer diamolo a vedere max timer eccolo qui è uguale a 1000 allora cosa va a controllare questo if in tx ci sono i secondi i millisecondi passati e andiamo a vedere se è maggiore o uguale dei millisecondi che erano stati memorizzati prima più 1000 tx continuerà aumentare perché render viene richiamata ad ogni frame quindi tx diventerà sempre più grande perché passa sempre più tempo passano sempre più millisecondi last tx invece rimane sempre il valore che era stato memorizzato prima a cui aggiungiamo 1000 a un certo punto tx diventerà più grande di last tx più 1000 e a quel punto cosa facciamo guardate che succede last tx diventa uguale a tx quindi immaginate che last tx fosse 0 all'inizio lo scriviamo qua sopra mettiamo un po' di spazi last tx era 0 all'inizio mettete è subito stato memorizzato appena il programma è partito e andiamo a sommare 1000 il risultato di 0 più 1000 farà ovviamente 1000 se sono passati solo 10 tx 10 millisecondi dall'inizio 10 non è maggiore o uguale di 1000 e quindi questa parte non verrà modificata ma tx continua a aumentare continua a aumentare un certo punto diventa proprio 1000 o magari 1001 o 1002 a quel punto tx diventa maggiore o uguale di questa quantità e allora che cosa succede in last tx andiamo a memorizzare il valore di tx quindi verrà memorizzato 1000 lì dentro andiamo a memorizzare in last fps in quest'altra variabile quanti quante volte la variabile fps è stata incrementata vi ricordate che fps counter più più vuol dire che andiamo a sommare tanti 1 più 1 più 1 più 1 ogni volta che viene richiamato render ma render viene richiamato ogni volta che si rinfresca lo schermo quindi noi andiamo a memorizzare quante volte è stato rinfrescato lo schermo in last fps e andiamo a zerare fps counter lo poniamo uguale a 0 così ricomincerà a contare la volta successiva quanti frame sono passati dopo e il ciclo poi ricomincia vedete a quel punto i tx che sono diventati 1000 1010 immaginate che sia passato un po' di tempo lo stiamo adesso questo 1010 confrontando con 2000 e quindi dovrà passare un po' di tempo quanto un secondo perché 1000 millisecondi sono un secondo dovrà passare un secondo perché possa di nuovo essere memorizzati quanti frame sono passati in quel secondo in last fps avremo sempre il valore da stampare a schermo per visualizzare appunto i frame che sono trascorsi ecco questo è proprio il nucleo aiuto è il nucleo di questa tecnica che ci consente senza utilizzare funzioni particolari di contare quanti frame sono passati in un secondo quanti frame quante volte è stato ridisegnato il nostro schermo e questo ci permette di vedere se la grafica che stiamo disegnando è troppo pesante se vediamo che non arriva più a 144 frame al secondo vuol dire che stiamo esagerando a disegnare cerchi rettangoli sullo schermo il computer non ce la fa disegnarli così velocemente che deve usare un frame successivo per disegnarli tutti e quindi i frame al secondo si abbassano e la qualità della simulazione diminuisce ecco ovviamente tutte queste cose e quindi vi rendete conto se è facile seguire questo corso anche se non voglio farlo troppo semplice ma neanche troppo difficile qui chi ha voglia di seguirlo mi deve dire proprio nei commenti guarda lascia perdere non ci sto capendo nulla e quindi non lo seguirei se qualcuno dice ma così è troppo banalizzato puoi saltare certe cose perché le so già magari spieghiamo qualcosa di più complicato però in effetti se qualcuno non conosce il linguaggio C magari qualche notizia così banale come questa è utile darla quindi ditemi voi nei commenti se dare un taglio ancora più semplice se darlo un po' più ad alto livello e chi non mi dice io non lo seguirò lo vado a depennare dall'elenco e vediamo se rimane qualcuno che seguirà questi tutorial nel seguito ecco se ovviamente non rimane nessuno sospendo e faccio altre cose allora dicevo però che questo è solo il nucleo e finisco il video è solo il nucleo come contare i frame c'è una funzione render che viene richiamata ad ogni frame e con le nostre variabili andiamo a contare quante volte in un secondo è stata richiamata poi ovviamente ci sono tante altre cose che servono per gestire lo schermo poi aggiungeremo anche delle istruzioni per segnalare quanti clic e dove sono stati fatti sullo schermo col mouse perché serviranno per rendere la nostra applicazione interattiva e così via e poi vedete ci sono anche delle funzioni qui in basso che servono questo fcdraw è una funzione di questa libreria per stampare con le sdl in modo semplificato che ho voluto introdurre per evitare di rendere le cose troppo complicate e questo fcdraw non fa altro che stampare sullo schermo il numero dei frame che sono passati vedete che c'è proprio scritto qui last fps che è la variabile che contiene secondo dopo secondo quanti frame sono passati nel secondo precedente e poi c'è la solita funzione main con varie che richiama varie funzioni che servono proprio per impostare bene tutto lo schermo bene direi che qui sotto in descrizione troverete tutti questi codici che appunto potete modificare potete giocarci ovviamente dovete avere installato namescripten e lo trovate nei video precedenti di questa playlist di questa serie come fare altrimenti chiedete e vi do qualche indicazione qui sotto nei commenti ma torniamo a vedere il nostro frame rate e la prossima volta rimostreremo come si si può muovere una pallina e cercheremo di arrivare a muovere dei pianeti interi e a farli interagire con la legge di gravitazione universale allora qui si è arrabbiato perché si è arrabbiato ah sì perché ho aperto il link sbagliato allora andiamo a riaprire localhost ed eccolo qui wasma04.html e vedete che all'inizio scrive 0 fps e poi comincia a dire secondo dopo secondo che invece i frame i ridisegni di questo schermo verde che vedete qui li ha fatti 144 volte in un secondo ed è chiaro che lo può fare perché l'unica cosa che fa è cancellare lo schermo e scrivere quanti frame sono passati se cominciassimo a disegnare un milione di palline che rimbalzano e i frame scenderebbero molto rapidamente bene non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e vedremo se ci saranno altre puntate di questa serie io vi ho spiegato come visualizzare i frame per second ma solo quelle quattro righe di codice se avete domande sul resto che vedrete fatele pure qui sotto nei commenti a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in uno dei prossimi video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti